Buongiorno a tutti, dichiaro aperta la seduta iniziando con il question time. Oggetto numero uno risponde l'assessore Fioroni. Situazione, società, sogesi, spa, possibili rischi di crisi occupazionale e tutela dei siti di Cannara, Ponte San Giovanni e Stroncone. Presentata dalla consigliera Porzi, do la parola alla consigliera Porzi per l'illustrazione dell'interrogazione. Buongiorno, grazie Presidente. Iniziamo questa seduta del question time con questo importante tema che riguarda un sito della nostra realtà regionale molto importante. Vorrei fare una premessa. Il gruppo sogesi opera in diverse regioni italiane fornendo un servizio di qualità per quanto concerne il lavanolo e la sterilizzazione per la sanità pubblica, per la privata e per l'industria. Dal 2013 possiede diverse certificazioni di gestione che garantiscono i livelli delle prestazioni. Voglio anche ricordare che il gruppo sogesi è stato fondato nel 1982 dal gruppo Schulz-Nardi che possiede sette stabilimenti in Italia, che conta 850 persone impiegate e che serve 1200 clienti. Considerato che c'è stato un esito negativo per quanto riguarda il ricorso in merito alla mancata aggiudicazione della gara palto per i servizi ospedalieri nel Lazio e in Umbria, ecco, queste tematiche fanno riemergere interrogativi inquietanti rispetto al futuro occupazionale dei siti, specialmente di quello di Cannara. Dal 2 dicembre sappiamo che nei tre stabilimenti Cannara, Ponte San Giovanni e Stroncone è stata attivata la cassa integrazione a rotazione. Voglio anche ricordare che lo scorso anno, esattamente il 18 gennaio 2018, il collega Solinas aveva sottolineato la preoccupazione che questa crisi nel comune di Cannara in modo particolare avrebbe prodotto gravi ripercussioni. Abbiamo notizie per cui sembrerebbe che dallo scorso settembre la produzione nel sito di Cannara sia dimezzata, che i contratti a tempo determinato non siano stati rinnovati e che alcuni dipendenti siano stati trasferiti in altre sedi. Evidenziato quindi che queste sedi di Cannara, Ponte San Giovanni e Stroncone rappresentano una opportunità occupazionale molto importante, che in questi siti produttivi lavorano maestranze altamente specializzate, proprio per questo chiedo di sapere qual è la posizione ufficiale della Giunta rispetto al ricorso sulla gara e soprattutto quali sono le intenzioni, e questo è il tema che ci riguarda e che ci preoccupa di più, rispetto alla gestione di questa crisi occupazionale per il momento soltanto legata alla cassa integrazione. Ci sono notizie di questi giorni che parlano appunto di 250 dipendenti, il 90% delle quali donne, che sono fortemente preoccupate per questa situazione, per cui ecco vogliamo sapere dalla Giunta quali sono le posizioni e gli interventi. Consigliera, porti scusi ma... Grazie. Perfetto. Do la parola all'assessore Fioroni per la risposta che ha tre minuti. Sì, buongiorno. La posizione ufficiale della Giunta, non ci può essere una posizione ufficiale nella misura in cui la Giunta si sta monitorando con estrema attenzione questa situazione, che però è oggetto, avevo avuto occasione anche di dirlo al consigliere Pastorelli che aveva già sollevato questa tematica, è oggetto di un ricorso in consiglia di Stato da parte dell'azienda Sogesi. La sentenza dovrebbe essere pronunciata teoricamente entro il mese di febbraio, realisticamente massimo due mesi, tanto per percorrere l'iter, sappiamo che l'azienda Sogesi, che chiaramente per l'attività che svolge di lava-noleggio e ricondizionamento di dispositivi texili, superficie antidecubi, nonché affidamento e fornitura e noleggio di kit sterili, aveva perso, e lì con sentenza invece definitiva del Consiglio di Stato, la gara nel Lazio. Con determinazione del 2 maggio del 2018, l'amministratore unico di Umbria Salute aveva disposto a favore di servizi ospedalieri S.p.a. il servizio che è oggetto del ricorso. Prontamente nel 17 agosto del 2018 Sogesi ha di fatto presentato il ricorso al Star che è stato rigettato, salvo poi nel presentare subito il ricorso al Consiglio di Stato, che ha ritenuto opportuno per valutare la pratica, che è una pratica chiaramente complessa, a nominare un verificatore esterno, verificatore esterno che poi su istanza dell'altra parte è stato cambiato e i risultati sono stati presentati e la sentenza dovrebbe essere da qui a, come dicevo, pochi mesi. Noi abbiamo incontrato non più tardi della giornata di ieri la proprietà, abbiamo parlato con la proprietà e chiaramente ci siamo riservati di fare un monitoraggio e vigilare in attesa della conclusione della vicenda da cui di fatto dipenderanno i piani industriali, perché comunque chiaramente un'azienda che vive di procedure pubbliche nel lavoro per quella parte del business, oltre che attività private, chiaramente parliamo di due appalti insieme Umbria e Lazio pesano sul fattorato dell'azienda, pesavano 26 milioni di euro all'incirca. Tenete conto che nel momento in cui è stato presentato, in data 31-10, del 31-10 del 2018, Sogesi si è fatta carico nell'attesa di un giudizio definitivo di effettuare le forniture con un accordo con Umbra Salute applicando uno sconto che è quello presentato nell'offerta, salvo poi farsi carico successivamente laddove la procedura non dovesse andare a buon fine, quindi il Consiglio di Stato esprimersi negativamente, dovere rimborsare quella differenza di prezzo che praticamente fra il vecchio contratto e il prezzo risultante della propria offerta di gara. Quindi in questo momento possiamo dare atto alla proprietà che i livelli occupazionali Assessore Fioroni, scusi, se può andare a conclusione. Sì, i livelli occupazionali sono rimasti inalterati con eccezione chiaramente dei lavoratori interinali e in realtà il ricorso alla cassa integrazione per quanto messa, resa disponibile, non è stato fatto. Ripeto, la Regione sta monitorando in maniera vigile e attenta la vicenda, ben conscia dell'impatto occupazionale e del valore anche economico dell'azienda sul territorio. Sono soddisfatta della risposta dell'Assessore, continueremo a vigilare in maniera congiunta rispetto a una tematica che ci riguarda tutti e pertanto la ringrazio. Progetto numero tre, supporto alla filiera sui Nicola Umbra, do la parola al Consigliere Bettarelli per l'illustrazione dell'interrogazione ai soliti tre minuti tra replica e illustrazione. Grazie Presidente, grazie Assessore. La questione che sottopongo all'attenzione della Giunta, in particolar modo dell'Assessore Fioroni, anche se in realtà è una questione che riguarda un po' tutto tondo la Giunta, sono a mio avviso coinvolti e assessorati come quello all'agricoltura, come quello alla cultura, quindi diciamo una questione abbastanza variegata ed è una questione che non è recentissima purtroppo, quindi è una questione che parte da anni addietro. Io chiedo appunto l'UMI rispetto ad una questione che è legata al fatto che le nostre aziende, legate alla lavorazione delle carni in modo particolare, insomma, alla filiera sui Nicola, non hanno la possibilità di esportare le aziende della regione Umbra e anche Toscana, per dare un po' il quadro, a differenza di tante altre aziende situate in altre regioni, non hanno la possibilità di esportare i loro, ma i nostri direi, prodotti, in mercati importanti come quello, diciamo, cinese e americano in particolare. E date, insomma, anche le note vicende assolutamente attuali o diierne, legate in modo particolare, insomma, alla Cina. Credo che questa questione, insomma, sia importante per vari motivi, per i quali, dicevo appunto, coinvolge diversi assessorati, quindi per una questione, diciamo, di marchio, Umbra, di prodotti tipici che possono essere esportati, per una questione in primo luogo lavorativa e di tutela delle nostre aziende. Quindi io le chiedo appunto, Lumi, in merito, e le chiedo soprattutto di attivarsi, anche se, premetto e poi lo dirò dopo, credo che lei già si sia mosso in maniera molto solerte sulla questione assessore Fioroni, e le chiedo appunto di sollecitare, per quanto possibile, rispetto anche al lavoro già svolto dalle strutture sanitarie, dalle aziende, insomma, dai soggetti preposti, affinché siano mosi tutti i canali diplomatici, formali, informali, e di attivarsi affinché sia fatta appunto una azione congiunta, ripeto, sia a livello ufficiale, ufficioso, ma anche con canali non direttamente legati a quelli ministeriali. Penso ad esempio Umbria Jazz, penso anche a canali diversificati, proprio perché raggiungere l'obiettivo credo sia importante per diversi settori. Grazie. Do la parola all'assessore Fioroni. Scusi, Presidente. Allora, sì, questo è un tema molto delicato perché limita la competitività del nostro sistema industriale legato chiaramente a tutta la filiera suina. Allora, su questo noi ci siamo attivati con prontezze solerte, è un tema che era stato già attenzionato in campagna elettorale, perché oggi i nostri prosciutti, la nostra carne suina, insieme a quella toscana, è fuori da un sistema competitivo che, in virtù anche dell'epidemia di peste suina africana, che ha colpito la Cina, che ha portato all'abbattimento di un elevato numero di capi, noi non siamo in grado di far fronte con il prodotto all'esistenza del mercato cinese, perché non possiamo entrare nelle nostre aziende. Però subendo l'aggravio degli aumenti dei costi delle materie prime legate alla filiera. Quindi questo è un aspetto che può generare, soprattutto nell'Alto Tevere, una criticità. Allora, noi ci siamo attivati su dubbici livelli. Dal lato abbiamo riattivato i rapporti con la Direzione Generale, il dottor Borrello, della Sanità Animale del Ministero. Ci ha detto che la questione è già stata riportata all'agenda dei rapporti, degli incontri, in un incontro avvenuto a maggio, in cui si chiedeva l'estensione della Regione, addirittura a tutta l'Italia. L'Oglie si è pronunciata che tutta l'Italia è in muna della vesicolare suina. E c'è stato anche un incontro a maggio con i capi di servizio veterinario degli Stati Uniti per riconoscimento. In realtà la burocrazia statunitense sta andando molto lentamente, anche troppo, su questo termine. Sono stati sollecitati tramite l'ambasciata e due settimane fa è stata inviata la conferma dell'Oglie dell'indennità dell'intero Paese, quindi non solo dell'Umbria. Tenete conto che a tempi della certificazione il nostro sistema sanitario non era stato pronto, quindi la self-declaration avvenuta successivamente non era stata sufficiente per far centrare in quel sistema di controlli. La tematica riguarda la Cina. La Cina in realtà utilizza i controlli degli Stati Uniti solo come conseguenza di normativa di riferimento da un punto di vista internazionale. Anche se noi la strategia che intendiamo intraprendere, chiaramente la tempistica sulle problematiche sanitarie cinesi, non è quella ottimale, è quella di andare a portare le stanze nel nostro settore dell'industria suina direttamente ai governatori delle province con cui la regione Umbra ha avuto rapporti. Su questo faccio riferimento a una futura missione che il Ministro Bellanova dovrà avere in Cina. Questo tema nelle recenti missioni diplomatiche nei confronti della Cina non è mai stato in cima all'agenda, quindi abbiamo sollecitato tramite la direzione del Ministero di mettere questo punto tra le questioni tenendo poi conto che noi cercheremo di agire con i vari canali. Noi su questo abbiamo anche collaborato con Davide Calderone che è il presidente di Assica, l'industria che riunisce i produttori, quindi l'obiettivo è quello di cercare di fare massa critica al sistema. Ma magari l'appello anche di questa aula può essere utile per ricordare nel caso di missioni e ne è prevista una breve del Ministro Bellanova in Cina, come questo sia un tema importante per il nostro sistema, per tutta l'industria agroalimentare italiana. Quindi noi siamo sul pezzo e abbiamo cercato, ci è stato sconsigliato perché il rituale è di avere contatti diretti con le ambasciate, in mente il contatto con le province con cui c'è un rapporto di gemellaggio, un memorandum d'intesa non ultima, quella dello Shenzong, per le vicende a cui lei faceva il riferimento di Umbragez, con cui attivarsi per il Governo centrale di Pechino perché chiaramente questo è un tema per noi cruciale che metterisca anche la sopravvivenza di un intero settore. Consigliere Bettarelli avrebbe finito il tempo per la replica, però... Volevo solo fare i complimenti e ringraziare per come approcciato la questione sia in aula che fuori dall'aula l'assessore, credo che sia questo l'approccio ottimale per lavorare, quindi sono molto soddisfatto perché la questione è Umbra, è anche Alto Tiberino ma soprattutto è Umbra e coinvolge tutti, quindi grazie. Adesso l'oggetto numero due risponde l'assessore Melasecche, stato di avanzamento dei lavori sulla linea ferroviaria ex FCU. Do la parola alla consigliera Peppucci per illustrare l'interrogazione. Grazie. Grazie Presidente. Quello della FCU è un tema fondamentale per lo sviluppo della nostra Regione, sul quale purtroppo, per troppo tempo, non si è fatta chiarezza. Infatti, da tanto tempo, gli Umbri aspettano delle risposte concrete. Dal 12 settembre 2017 il servizio ferroviario della ex Ferrovia Centrale Umbria è sospeso con la contemporanea attivazione di servizi sostitutivi su gomma e questo avrebbe dovuto permettere l'esecuzione dei lavori necessari a rendere l'infrastruttura efficiente e sicura. La riapertura era prevista per settembre 2018 ma ad oggi il quadro è desolante. Prima ancora di essere un'occasione di sviluppo e di crescita, come avviene in altre Regioni, il trasporto pubblico e locale dovrebbe essere uno strumento per neutralizzare le disparità sociali e per conferire uguali opportunità ai cittadini meno abbienti. In realtà, a causa della continua incertezza e di numerose inefficienze, dovute anche ai tempi troppo lunghi per raggiungere le destinazioni, molte persone sono state costrette ad abbandonare il servizio sostitutivo in autobus a favore di quello privato, accrescendo così inquinamento e intasamento di strade e città. Se quindi da un lato si è potuta rilevare una perdita da un punto di vista sociale, dall'altro si è persa un'occasione per avere uno sviluppo economico e turistico per la nostra Regione, considerando anche la posizione strategica di Terni, dove le reti nazionali e regionali si intercorrono. Ad oggi partire da Terni e arrivare a Sansepolcro può essere veramente complicato. Va sottolineato che con il decreto interministeriale di aprile 2018, la tratta sud della ex FCU è stata inserita tra le strutture di interesse nazionale, ma i cittadini, l'unica cosa che riescono a vedere per quanto riguarda poi la parte sud, non sono i lavori sulla tratta, ma il degrado delle stazioni che sono completamente abbandonate a loro stesse. Non ultimo è stato anche il report di Lega Ambiente che ha inserito la tratta FCU Terni-Sansepolcro nella blacklist delle peggiori ferrovie d'Italia, un dato che dovrebbe farci riflettere. In conclusione, Assessore, la situazione risulta drammatica sia per la tratta nord-Sansepolcro-Perugia, dove nonostante ci sia stata una parziale riapertura della linea alla situazione insostenibile per i pendolari, sia per la tratta sud-Perugia-Terni, dove l'intera tratta ferroviaria è lasciata a se stessa. Per questo, Assessore, interrogo lei e la Giunta per avere informazioni sullo stato d'avanzamento dei lavori della linea ferroviaria ex FCU. Grazie. Grazie, consigliere. Lascio la parola all'Assessore Melasecchio. La Giunta condivide pienamente il giudizio appena dato dalla consigliera sulla situazione purtroppo drammatica della ferrovia centrale Umbra. Assicuro il massimo interessamento. Con la Presidente già ci siamo trovati a Roma per discutere dell'argomento con l'amministratore delegato di RFI. Sono seguiti numerosi incontri tecnici a cui ho partecipato per giungere finalmente ad un protocollo complessivo di tutti i lavori relativi alle infrastrutture ferroviarie, in modo tale che ogni ente possa assumersi le proprie responsabilità con cronoprogrammi precisi, onde evitare quello che è accaduto in passato. Aggiungo, entro pochi giorni avremo un incontro con il Ministro De Micheli grazie all'intervento della Presidente e ho avuto già un incontro con il Vice Ministro Cancelleri, che ha dato la massima disponibilità su questo fronte. Sintesi assoluta. Sansepolcro, città di Castello, è da rifare completamente. Occorrono 46 milioni circa. La tratta città di Castello, Perugia, occorrono circa 9 milioni per metterla in sicurezza e consentire di andare ad una velocità che non è quella media attuale di 30 km, che è ridicola, da far west proprio, forse andavano più veloci i cavalli degli indiani all'epoca, ma a 70 km all'ora, media commerciale. Stiamo sollecitando i finanziamenti da questo punto di vista. Stiamo anche sollecitando il Ministero, e ne abbiamo parlato, per fare in modo che anche la tratta Sansepolcro-Perugia diventi di interesse nazionale, perché è assurdo e questo faciliterà i finanziamenti successivi. Per riaprire la tratta Perugia-Ponte San Giovanni-Terni, occorrono circa 240-250 milioni, perché occorre rifare completamente tutte le infrastrutture, perché attualmente le vecchie traversine in legno sono fradice, non danno sicurezza e non consentono ai treni di andare ad una velocità decente. Le altre, quindi, su questo siamo impegnati nei confronti del Governo per ottenere i finanziamenti che verranno assegnati a RFI per realizzare l'opera. Si potrebbe, in una fase intermedia, con 66 milioni di 260, ottenere intanto la ricostruzione della linea, quindi ponti, eccetera, intanto per riaprirla, analogamente a come funziona oggi la tratta Città di Castello-Perugia. Le altre due opere, marginali in qualche modo, ma non troppo, Stazione Sant'Anna-Ponte San Giovanni, i lavori sono in corso, li segue RFI, sono finanziati, se ne prevede la conclusione entro un anno e mezzo o due, a detta del responsabile interregionale di RFI. Per quanto riguarda la tratta, concludo, cesi terni, incredibile, stiamo cercando la pratica perché sembra che nonostante i milioni spesi e da 20 anni gli appalti, sembra che la struttura regionale non ne sappia nulla ad oggi. Quindi stiamo facendo una ricerca con l'intesa che anche quest'opera gemella possa finalmente riprendere quel litter che era stato previsto 20 e più anni fa. Grazie. Grazie Assessore perché finalmente, dopo tanto tempo, gli Umbri hanno avuto delle risposte reali e precise. Quindi non posso che accogliere positivamente la risposta che mi ha dato e che ci ha dato a tutti noi e il modo in cui lei e la Giunta sta affrontando questa problematica. Sicuramente se negli anni fosse stata data la giusta attenzione alla linea ferroviaria ex FCU probabilmente non si sarebbe arrivata a questa situazione. Grazie Assessore. Situazione relativa all'ipotesi di costruzione del nuovo ospedale di Narnia Melia, do la parola alla Consigliera Pace. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Innanzitutto mi permetta di dire che con questa interrogazione sono stata felice di aver risvegliato le coscienze rispetto a un problema che oramai da anni giaceva nei meandri dei problemi mai risolti e quindi di questo prendiamo atto. In questi giorni abbiamo assistito a una serie che innumerevole di dichiarazioni e ripercorrere in pochissimi minuti una storia lunga 40 anni sarebbe impossibile. Lo scorso sabato nella mia città a Narnia è stata addirittura organizzata un'assemblea pubblica in cui abbiamo assistito a una sorta di lexio magistralis in cui ci venivano ricordati passo dopo passo tutte le vicende e tutte le inversioni di rotta che hanno riguardato la costruzione del nuovo ospedale di Narnia Melia. Qualcuno ha anche dichiarato di non essere assolutamente interessato né a quanto io chiedevo né a quanto lei gentilmente e cordialmente ci risponderà. A me invece interessa e interessa anche molto e soprattutto vorrei avere delle risposte che siano chiare e trasparenti per tutti quei cittadini siano Arnesi che Amerini che in questi anni hanno creduto in questo progetto e le domande che gli faccio sono in merito a due livelli, in merito a due ordini. Il primo è quello che riguarda il livello progettuale e capire quindi a che punto effettivamente siamo sia con il progetto definitivo sia con l'assegnazione del progetto definitivo che a quanto dicono sembra essere stato assegnato soltanto nel novembre 2019. L'altro livello invece è quello economico-finanziario. Il primo punto riguarda i fondi ministeriali ex articolo 20 per un importo pari a 18 milioni che faceva parte del cofinanziamento. La seconda domanda è invece sul mutuo che dovrebbe accendere la ASL2 per un importo pari a 40 milioni di euro circa. E la terza domanda alla quale nessuno finora ha mai dato risposta è quello che riguarda i fondi per gli interventi e l'adeguamento della viabilità e quindi per la definizione dei necessari finanziamenti. La ringrazio. Parola all'assessore Coletto. L'intervento è compreso nell'accordo di programma sottoscritto il 5 marzo del 2013 tra Regione Umbria e Ministeri di Salute, Economia e Finanze. Con la delibera 1276 del 15 ottobre del 2014 si prevedeva atto dell'accordo di programma sottoscritto il 10-10-2014 tra Regione ASL2, Provincia di Terni, Comune di Narni e Comune di Amelia. Il finanziamento ex articolo 20 è avvenuto con Decreto della Salute 14-10-2015. Il finanziamento di cui la Regione ha preso atto con DGR 14-67 sempre dicembre 2015 prevede una quota statale ex articolo 20 17 milioni 6-50, quota Regione Umbria ex articolo 20 928 mila euro, quota azienda 36 milioni e 401. In quota azienda è secondaria la possibilità di indebitamento dell'azienda sanitaria regionale previsto dalla legge regionale 11-2015 che all'articolo 70,3 prevede la possibilità previa autorizzazione della Regione a ricorrere all'assunzione di mutui o ad altre forme di indebitamento di durata non superiore a 20 anni, fino a raggiungere, con l'ammontare complessivo delle rate di ammortamento complessive di capitale e di interesse, il 15% delle entrate proprie, coerenti o dei ricavi netti e provenienti di esercizi previsti nel bilancio preventivo economico dell'anno in corso, con esclusione delle quote assegnate a titolo di fabbisogno sanitario standard e delle sopravenienze in sussistenza e plusvalenze attive. Nel 2016 veniva ridisegnata la parte riguardante la tipologia dei posti letto previsti, aumentando quelli per acuti e riducendo il numero previsto per la posta acuzia. Nel contempo variava il quadro economico nel seguente modo. Quota ex articolo 20 17 milioni 650, quota Regione Umbria 928 mila euro, quota azienda 39 milioni, quindi da 36 milioni di esposizione con mutuo si arrivava a 39 milioni, per un totale di 58 milioni, di cui 18 di ex articolo 20, quote ministeriali e regionali. Vi è il parere favorevole del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità, nota del Ministero della Salute del marzo 2017. Questa modifica comportava un nuovo accordo di programma siglato in data 13-10 del 2017, in cui viene previsto che l'ente attuatore, progettazione e realizzazione, è l'Ulso Umbria numero 2, mentre il Comune di Narni ha funzione di completare le opere di esproprio di terreno individuati per la costruzione. Con DGR 434 del 2017, la Regione approva le modifiche e il nuovo quadro finanziario che incaricava il Direttore del Dipartimento Regione Salute a formalizzare al Ministero la revoca e contestuale rifinanziamento delle risorse ex articolo 20 già previste per il progetto, avvenute con nota 90-313 del 2017. Sempre con nota 14-375 del maggio 2017, il Ministero della Salute ha trasmesso il decreto dirigenziale di revoca del finanziamento statale relativo all'intervento e di contestuale disponibilità al rifinanziamento che avverrà con successivo atto su richiesta dell'ente interessato secondo le modalità. Lo Stato dell'arte. La localizzazione è prevista in località camartana del Comune di Narni, con estensione del terreno pari a circa 80.000 metri quadri. Ad oggi l'azienda ha già a disposizione circa 70.000 metri quadri. In questo mese il Comune ha attivato lo sdoganamento di un terreno di proprietà del demanio. Resto un'ulteriore particella di proprietà del demanio ANAS, comunque periferica e non interessata alla costruzione, di cui si è avviato l'iter di trasferimento. In data 21.1.2020 si è provveduto all'apertura dell'offerta economica per l'individuazione dell'organismo di ispezione di tipo A e C, ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016. L'azienda ha comunicato in Regione, con nota 24.92.80 del dicembre 2019, la richiesta di convocazione del collegio di vigilanza, previsto dall'ultimo accordo di programma di qui sopra, alla luce dello stato di avanzamento della progettazione esecutiva. A seguito della validazione dell'opera, da avvenire entro marzo 2020, sarà presente tutta la documentazione per richiedere il rifinanziamento dell'ex articolo 20 al Ministero. Il contenuto del progetto, il nuovo ospedale, vedrà la concentrazione in essere di tre stabilimenti. Lo stabilimento di Narni, ospedale di base, lo stabilimento di Amelia, ospedale di base, quello di Narni con 81 posti retto, quello di Amelia con 50 posti retto e poi c'è la Domus con codice 56 con attuali 20 posti retto. La quota statale è di 17.650.000, la quota della Regione è di 928.000 euro e l'indebitamento che deve essere autorizzato naturalmente dai revisori dei conti dell'azienda Asla 2 Umbria è di 39.477.000, per un totale di 58 milioni. Per questa quota aziendale, l'ipotesi economica legata al progetto, è prevista l'alienazione di beni per circa 17 milioni e il resto circa 22 milioni di mutuo ventennale. Agli atti è presente certificazione dell'ufficio dell'uso Umbria 2 della dirigente del servizio economico e finanziario, in cui si dichiara la compatibilità dell'uso al confinanziamento in quanto rispondente alle capacità di interabitamento sopra citata. Con 17 ospedali all'attivo, con due aziende ospedaliere, con un piano sanitario preapprovato, con dei flussi da verificare, con una struttura che naviga, fra virgolette, da 40 anni, come accennava la consigliera Pace, sarebbe opportuno fare delle valutazioni, non perché non si voglia costruire questo ospedale. Io non ho mai detto questo, nessuno ha mai detto questo. Ma per andare a collocare questa tesserina, perché questa è una tesserina, all'interno di un mosaico più complesso e più complicato, che deve essere esaustivo di quelle che sono necessità di un territorio, che sino ad oggi è stato, posso dire, trattato in maniera piuttosto sufficiente e che deve essere trattato meglio. È chiaro che il meglio magari è nemico del bene, ma è altrettanto vero che un'analisi, un approfondimento su questa nuova costruzione deve essere fatto, non tanto, ripeto, per la costruzione e non costruzione dell'ospedale, ma per il tipo di ospedale che deve essere costruito. Visto considerato che siamo in prossimità di uno stabilimento ospedaliero importante, qual è l'azienda ospedaliera di Terni, visto considerato che l'azienda ospedaliera di Terni non è un ospedale di secondo livello, ma un ospedale importante, che fa mobilità attiva, di cui tanto sta soffrendo la Regione Umbria. Noi con queste nuove pianificazioni dobbiamo assolutamente migliorare quella che è una mobilità passiva che è venuta addosso alla Regione Umbria da almeno un triennio. Quattro milioni e mezzo di mobilità passiva sono un dato certo. La pianificazione che si deve fare è un dato che deve andare incontro a quelle che sono le necessità di un territorio, non sono più sopportabili speculazioni politiche perché si fa l'ospedale o perché non si fa l'ospedale. L'ospedale deve essere fatto su misura per quelle che sono le necessità degli Umbri. Ricordo a questo consesso, a quest'Aula, che i soldi che stiamo spendendo sono soldi dei contribuenti e sono soldi che, ai sensi del 118 del 2011, devono essere spesi principalmente, sto parlando del Fondo Sanitario Nazionale, che viene erogato con riparto alle Regioni, devono essere spesi per curare le persone. Gli investimenti, e quando parlo di investimenti parlo sia di strutture morali o ospedaliere che sono fondamentali, soprattutto in una Regione soggetta... Assessore, scusi, ma abbiamo proprio sforato il tempo per la TV. Mi perdoni, Presidente, solo per concludere. Soprattutto quando si interviene in una Regione dove si è soggetti spesso e volentieri purtroppo a terremoti, quindi sono strutture importanti che devono essere costruite nella maniera più corretta possibile, ma soprattutto devono essere condivise. Sottolineo un altro aspetto della programmazione, il memorandum appena firmato con l'Università, con la quale noi vorremmo condividere il percorso. Repica al Consigliere Pace. La ringrazio, Assessore. Mi pare di aver capito che nonostante qualche errore nella comunicazione delle date, sotto il profilo progettuale dovremmo quasi essere vicini al compimento. Sotto il livello economico-finanziario mi pare invece che ci siano ancora molte questioni da agarire, soprattutto per quanto riguarda il rifinanziamento ex articolo 20 da parte del Ministero che era stato congelato nel momento in cui era stato cambiato due anni fa l'accordo di programma e soprattutto nella verifica della quota parte a carico della Asle. Quindi sono certa che a breve riusciremo anche a fornire un quadro più completo rispetto al quadro generale economico-finanziario della costruzione del nuovo ospedale. La ringrazio per aver chiarito che nessuno, né lei né tanto meno io, ha detto che l'ospedale di Narnia Melia non si farà perché spesso si mettono in bocca parole che invece non sono mai state pronunciate. Credo che invece parlare di una riorganizzazione di tutti i servizi per i cittadini affinché l'Umbria proceda ad un'unica velocità dal nord al sud sia il lavoro che correttamente deve fare un Assessore raggiunta ai consiglieri regionali. Grazie. Grazie.